Benvenuti su Zampa TV, il vostro portale dedicato al meraviglioso universo canino. Oggi ci addentreremo nei dettagli affascinanti e tecnici del cane setter inglese. Se siete appassionati di questa raffinata razza, siete nel posto giusto. Prima di iniziare, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna delle prossime avventure canine. Il fascino del setter inglese trova le sue radici in una storia ricca e affascinante che affonda le sue origini nella tradizione di caccia della Gran Bretagna. Questo nobile cane da caccia è stato sviluppato per svolgere un ruolo cruciale nella selezione e segnalazione durante le battute di caccia, dove la sua abilità di piazzare o settar diventò un elemento indispensabile. Le origini dello setter inglese risalgono al XVII secolo, quando i cacciatori desideravano un compagno capace di localizzare e indicare la presenza di uccelli selvatici, consentendo loro di avvicinarsi con successo alla preda. Attraverso selezioni attente e incroci mirati, si sviluppò il setter inglese, caratterizzato dalla sua eleganza, dal naso affinato e dalla capacità di lavorare in collaborazione con i cacciatori. La razza divenne presto una presenza comune nei campi di caccia britannici, guadagnandosi una reputazione per la sua abilità insuperabile nella ricerca e nella segnalazione di uccelli. La dedizione dei cacciatori e degli allevatori alla perfezione della razza ha contribuito a plasmare il setter inglese in quello che conosciamo oggi, un compagno di caccia di grande stile e un amico affidabile. Esplorare le origini dello setter inglese, C consente di comprendere la sua intrinseca connessione con la tradizione di caccia britannica e apprezzare la sua evoluzione nel corso dei secoli. Nel prossimo capitolo ci immergeremo nelle caratteristiche fisiche e estetiche che rendono questa razza così unica e affascinante. Continuate a seguirci su Zampa TV per un viaggio avvincente attraverso il mondo del setter inglese. Lo setter inglese si distingue per la sua eleganza innata e le caratteristiche fisiche che lo rendono una presenza inconfondibile tra le razze canine. La sua figura slanciata e regale cattura l'attenzione mentre il suo mantello setoso completa il quadro di un cane dalla bellezza senza pari. La testa dello setter inglese è ben proporzionata al corpo, con un cranio moderatamente largo e orecchie lunghe e penzolanti che aggiungono un tocco di nobiltà al suo portamento. Gli occhi, di solito marroni o nocciola, sono espressivi e riflettono l'intelligenza e la gentilezza innata di questa razza. Il mantello dello setter inglese è un trionfo di eleganza. Lungo, liscio e setoso al tatto, può presentarsi in varie colorazioni, tra cui il classico bianco e nero, il bianco e arancio o la versione tricolore. Questa varietà di colori aggiunge un tocco di vivacità e bellezza al profilo di questa straordinaria razza. La struttura del corpo è ben bilanciata, con una linea del dorso retta e una coda lunga e frangiata che si porta in su durante l'azione, esprimendo la sua attenzione al lavoro di caccia. Le zampe sono robuste e muscolose, conferendo al setter inglese l'agilità necessaria per muoversi agilmente attraverso vari terreni durante le battute di caccia. La combinazione di queste caratteristiche fisiche crea un cane esteticamente piacevole, mentre la sua eleganza naturale e il portamento regale ne fanno un compagno di caccia e un animale domestico di grande prestigio. Esplorare le caratteristiche fisiche e estetiche dello setter inglese. C consente di apprezzare la sua bellezza intrinseca e la cura dedicata degli allevatori nel preservare queste caratteristiche uniche. Nel prossimo capitolo esploreremo il lato più intimo di questa razza, analizzando il suo carattere affettuoso e la sua personalità gentile. Il setter inglese non è solo un'icona di bellezza, ma anche un compagno di carattere gentile e socievole. Il suo temperamento equilibrato e la sua natura affettuosa lo rendono un membro straordinario della famiglia, capace di stabilire legami profondi con i suoi proprietari. La dolcezza del setter inglese è evidente fin da cucciolo. Questi cani mostrano un atteggiamento giocoso e vivace, mostrando curiosità per il mondo circostante e una predisposizione all'interazione con le persone. Questa inclinazione alla socializzazione li rende ideali come compagni familiari, adattandosi bene a vari ambienti e situazioni. La lealtà del setter inglese è un tratto distintivo della sua personalità, sviluppa un forte legame con la sua famiglia umana e mostra una dedizione senza riserve. Questi cani amano essere al centro dell'attenzione e godono di momenti di coccole e gioco con i loro proprietari. La sua natura gentile si riflette anche nelle interazioni con altri animali domestici e bambini. Il setter inglese, grazie al suo temperamento stabile, tende ad essere tollerante e paziente, rendendolo un compagno ideale in famiglie con altri animali o con bambini. Tuttavia, è importante notare che il setter inglese è anche un cane intelligente e indipendente. Questi tratti, se gestiti con cura, possono rendere il processo di addestramento stimolante e gratificante. La sua intelligenza, combinata con la sua predisposizione alla collaborazione, lo rende adatto a varie attività, dalla caccia Ugly Sport Canini. Il setter inglese incarna un equilibrio armonioso tra dolcezza, lealtà e intelligenza. Questa combinazione di caratteristiche lo rende non solo un compagno straordinario, ma anche un partner di caccia e un partecipante appassionato Ugly Sport Cinofili. Nel prossimo capitolo esploreremo le sfide e le gioie dell'addestramento di questa razza raffinata. L'addestramento del setter inglese è un'esperienza che mette in luce la sua intelligenza a guzza e la predisposizione alla collaborazione. Questa razza, nota per la sua natura gentile e leale, risponde positivamente a un approccio di addestramento basato sulla fiducia e sul rinforzo positivo. L'intelligenza del setter inglese lo rende capace di apprendere rapidamente una vasta gamma di comandi. Tuttavia, è importante tenere presente che, a causa della sua tendenza all'indipendenza, potrebbe richiedere un addestramento che stimoli la sua mente e lo coinvolga in modo positivo. La chiave per un addestramento efficace è la coerenza. Il setter inglese risponde bene a istruzioni chiare e a una routine stabile. Mantenere la coerenza nelle aspettative e nei comandi contribuirà a stabilire una relazione di fiducia tra il cane e il suo addestratore. Il rinforzo positivo è particolarmente efficace con lo setter inglese. Premiare i comportamenti desiderati con elogi, carezze o piccoli premi crea un ambiente positivo e motivante per il cane. Questa razza apprezza la connessione emotiva con il suo proprietario, quindi l'approccio gentile e positivo è fondamentale per il successo dell'addestramento. Dato che il setter inglese è stato originariamente sviluppato per la caccia, è utile integrare attività fisiche stimolanti durante l'addestramento. Questo può includere giochi interattivi e sessioni di esercizio che soddisfano il bisogno di movimento e attività mentale di questa razza. La socializzazione è un altro aspetto importante dell'addestramento del setter inglese. Esposizione a persone, altri animali e ambienti diversi aiuta a sviluppare un comportamento equilibrato e sicuro in varie situazioni. L'addestramento del setter inglese è un'opportunità per mettere in mostra la sua intelligenza e il suo desiderio di collaborare. Con pazienza, coerenza e rinforzo positivo è possibile sviluppare un legame forte e positivo con questa raffinata razza. Il setter inglese, con il suo olfatto straordinario, si distingue come uno dei cani da caccia più talentuosi e versatili. La sua capacità di percepire odori sfuggenti e seguire le tracce rende questa razza un partner eccezionale in molteplici contesti, dal campo di caccia alle operazioni di ricerca e soccorso. Il ruolo principale in cui l'olfatto del setter inglese si esprime appieno è, senza dubbio, la caccia. Questo cane è stato selezionato e sviluppato per individuare la presenza di uccelli selvatici attraverso il suo olfatto acuto. La sua abilità di settar o piazzare, segnalando la presenza di prede, permette al cacciatore di avvicinarsi con successo, rendendolo uno strumento indispensabile nelle battute di caccia. Grazie alla sua straordinaria sensibilità olfattiva, lo setter inglese può essere addestrato per attività di ricerca e soccorso. La sua abilità di individuare odori specifici lo rende utile nella ricerca di persone disperse o nell'individuazione di tracce, contribuendo a missioni di soccorso in situazioni di emergenza. Oltre ai ruoli pratici, molti setter inglesi partecipano con successo a competizioni olfattive. Queste sfide mettono alla prova la loro abilità nel rilevare e seguire odori specifici, dimostrando l'estensione delle loro capacità sensoriali. L'olfatto del setter inglese è sfruttato anche in vari sport cinofili, come il canicross o il trekking. La sua predisposizione a seguire odori e a lavorare in collaborazione con il suo proprietario lo rende ideale per attività che coinvolgono l'uso dell'olfatto in modo più ludico. L'olfatto del setter inglese è un dono straordinario che contribuisce alla sua versatilità e al suo successo in molteplici contesti. La sua abilità di seguire odori lo rende non solo un compagno insostituibile nella caccia, ma anche un partecipante eccellente in varie attività che mettono in risalto il suo straordinario senso olfattivo. Nel complesso, l'olfatto del setter inglese è un elemento chiave che definisce e arricchisce la sua personalità e il suo ruolo in svariati ambiti. Personalmente, sono affascinato dalla bellezza e dall'eleganza dello setter inglese, unite alla sua versatilità nell'ambito della caccia e degli sport canini. La sua natura affettuosa lo rende non solo un compagno di caccia eccezionale, ma anche un membro amorevole della famiglia. Iscrivetevi a Zampa TV per continuare a esplorare e approfondire la bellezza e le capacità straordinarie di questa raffinata razza.